Non c'è la presenza di uova, perciò light, sanfistic, la ricettina fa bene, fa bene il colesterolo, la ricettina, e qui c'è un petto di cacchino con tabassi per tutta la buona. Poi qui abbiamo un cracker, l'abbiamo chiamato postro mousse, c'è un cracker di pasta, una pasta disidratata fritta, un bigatone, dove abbiamo messo questa mousse di formaggi con delle mordurie di stagione. Prego.